Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 10 marzo. Ariete, un po' di nervosismo a causa della luna dispettosa che vi rende anche presuntuosi. Siete al centro dell'attenzione ma se volete conquistare qualcuno dovete dimostrarvi più modesti. Toro, la luna provoca un po' di stanchezza soprattutto mentale, avete bisogno di muovervi, di distrarvi, organizzate una serata all'insegna del relax. Gemelli, luna positiva fino a sera, sarà una giornata divertente se avete deciso di fare conquiste e otterrete grandi successi, anche il lavoro vi sorride, cancro, in amore può esserci qualche incomprensione, in famiglia il rapporto con le donne appare complicato, tante prospettive sul lavoro anche se sarete un po' ansiosi. Leone, prendete al volo un'occasione in amore prima che possa volare lontano. La luna favorisce le nuove storie e le partenze verso mete sconosciuti. Vergine, una luna positiva, bella per il lavoro, utilissima per incassare somme di denaro. Serata molto divertente e movimentata, concedetevi qualche piccolo lusso. Bilancia, in amore vivrete una giornata intensa, il partner saprà dimostrarvi i suoi sentimenti e le nuove storie possono partire all'improvviso. Scorpione, la luna in bilancia non promette nulla di buono nei rapporti sentimentali, alimenta un certo nervosismo che potrebbe sfociare in una discussione. Sagittario, Mercurio vi invita ad essere intraprendenti, proponete un'idea nuova. In amore state recuperando entusiasmo, avete voglia di parlare, di aprirvi e di conquistare. Capricorno, tenete sotto controllo le spese, Mercurio tende a farvi eccedere in generosità. In amore vivrete una giornata complicata, ma la riscossa non tarderà ad arrivare. Acquario, torna all'entusiasmo. Grazie alla luna intraprendente sentirete crescere l'ottimismo, grazie anche alle buone notizie che riceverete in giornata. Pesci, la luna in bilancia può essere molto utile perché pur rendendovi un po' volubili non fa altro che accrescere il vostro innato sesto senso, liberate anche la passionalità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.